e benvenuti e benvenuti in un episodio qui con il vostro Mattia di serie qui su Super Mario Kart 8 Deluxe nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto il quarto pacchetto aggiuntivo ma in questa episodio ci sono totali cambiamenti ragazzi, totali cambiamenti quest'oggi andiamo in 150cc, ci sono 3 nuovi personaggi di già abbiamo Peppino Piranha che abbiamo quotato su Super Mario Sunshine se non vi siete andati a vedere ancora Super Mario Sunshine, vi ricordo c'è qua la playlist c'è Torcibruco, bellissimo personaggio e c'è anche Kamek, raga, devo provare per forza Kamek eh, mi spiace, mi spiace devo vedere, mamma mia Kamek quanto pesa eeeh, pesa un bel po' facciamo in questa maniera dai andiamo più per velocità oggi, niente accelerazione o meglio potrei fare così ma sì dai perché no e ragazzi, ecco a voi il quinto pacchetto aggiuntivo queste le dobbiamo rimandare a non so quando entro dicembre 2023 dovrebbe finire tutto quanto detto questo ragazzi, domanda del giorno quanti gradi saranno nella vostra città? ho un caldo bestiale io devo per forza essere vestito da youtuber, mi sembra assolutamente giusto mentre registro devo essere comunque messo bene alture di Atene Mario Kart Tour quindi nuovo gioco vediamo un pochettino com'è non mi sono spoilerato niente anche perché questo video esce mi sa prima di tutti gli altri youtuber a meno che non mi hanno portato in live allora in quel caso non lo so sto registrando alle 8 e mezza ovvero appena ho finito di lavorare e fare tutte le mie cose personali c'è ragà tardissimo e sì sono alle 8 e mezza e devo registrare due video e devo editarne due quindi vediamo un pochettino ragazzi fare anche velocemente cercherò ne fare il più velocemente possibile cercherò anche di tattelline più frequentemente dopodichè ovviamente già vi spoilerò un pochettino anche quello che si andrà a fare in questi giorni vabbè quando finirà in pratica questo DLC sicuramente questo pacchetto aggiuntivo più che altro sicuramente sarà sabato quindi poco ma sicuro che ci sarà qualcosa di bello ovvero la skyblock che sta venendo abbastanza bene sta venendo abbastanza bene io già non vi spoilerò niente però settimana prossima e l'ultima settimana se volete vedere Mario Sunshine in tempo perché poi inizia Pickwing 4 iniziando Pickwing 4 visto che io comunque avrò adottato settimana prossima un nuovo metodo di registrazione di editing che sto già sviluppando in questi giorni però che verrà adottato tutto settimana prossima sì io purtroppo non posso lavorare tantissimo e l'editing sì è quella cosa che mi manca di più da programmare però quelli sono altri dettagli raga sta sicuramente da fare un bel po' di cose sicuramente sia in merito youtube sia in merito tutto quanto ora vediamo un pochettino di tagliare corto e fare direttamente così ok raga ora si va nel chill voglio cercare anche di fare una bellissima copertina io queste mappe non le conosco per niente ma sono davvero davvero molto belle molto colorate molto accese quindi è una copertina che possa anche risaltare all'occhio ci sta davvero tanto anche per spezzare un po' di copertina che ho visto nell'ultimo periodo molto curta eccetera ok che cos'è questa va bene non la conoscevo neanche buona buona molto boost molto boost a quanto pare e a quanto vedo quindi ho già trovato uno spiff ok che se ne importa avevo 4 monete addirittura avevo 4 monete no vabbè no vabbè comunque nei video di settimana prossima voi mi vedete se sta webcam perché vabbè sarà tutto fatto settimana prossima io adesso vado a vedere un attimo i momenti salienti ci vediamo tra poco ok ragazzi andiamo subito alla prossima corsa ho trovato un bel po' di scene molto molto belle in questa partita che soltanto con tra virgolette la replay mod potrei fare vedete 9daisy è vecchissima sta mappa abbastanza vecchia cioè l'ho giocato ma è abbastanza vecchia sta mappa mi ricordo che Nintendo stava questa mappa è molto molto vecchia già ve lo dico però la conosco abbastanza mi sa che l'avevano riproposta in Mario Kart Tour se non sbaglio quindi si la dovrei conoscere abbastanza bene anche se ci ho giocato per poco e forse l'idea di riscaricare per fare degli ottimi contenuti anche con Pixocube non sarebbe male come l'idea raga secondo me non sarebbe neanche molto male come l'idea aiuto aiuto la navi si dice non sa guidare ovviamente mi sembra assolutamente giusto dai dai prendiamolo più si guida eh ma si guida non può qua eh già ve lo dico che si guida non può qua che fa via ciao via 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 buona buonissima raga buonissima è andata non bene di più ragazzi oggi che questo avete fatto spero che vi siano tutto tutto quanto molto bene che stiate trascorrendo delle bellissime vacanze spero davvero stato tutto cuore che davvero siano tutto molto bene perché questi giorni mi fa un caldo che io sto solo morendo e basta io sto davvero solo morendo e basta ah sono primo possibile io primo ma quando ma dai dai oh questo era buono questa era buona muskans muskans aiuto aiuto eh questa mi sa che ero sbagliata raga io non so dove fare dei minigiochi o meno per quello non sto facendo cosa cosa essere successo precisamente cosa essere successo non lo so manco io non so che cosa sia successo ma posso dire soltanto gg c'è rv alle mie spalle ok c'era anche bosset junior a quanto vedo però io ho 10 monete che dovrei avere una velocità maggiore non lo so se è così spero che sia così perché io vi ricordo ok vai vai era buona quella era buona quella dritta in più magari io non ho fatto neanche mai questa parte quindi non so neanche come si faccia aiuto 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 via via toglietevi 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 fate schifo tutti fate schifo tutti tutti io secondo mi avete fatto arrivare in uno in due secondi replay toglietevi 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 fate schifo tutti oh già oh già non mi va neanche di guardare a momenti salienti raga davvero mi ha schifato questa mappa proprio schifo però devo fare tutto per il 100% a primo posto vabbè poi verranno fatti torni su torni quindi non vi preoccupate non ho neanche letto che cosa sia vabbè voi l'avete visto io no spero che sia qualcosa di bello che forse riconoscerò perché molte mappe riconoscono vediamo un pochettino vai da Mario Kart Tour e altri giochi che ho giocato io voglio riconoscerlo allora no questo non lo conosco per niente questa mappa dovrebbe essere un circuito di Mario a controllare si invertito o come dicono in inglese in reverse in reverse ok allora posso fare in questa maniera prendere questo turbo prendere questo altro turbo fare così e poi dopo prendere questa derapata fare così boom 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 ok fare in questa maniera derapare di qua togliere di mezzo v che stava per prendere il turbo ok quindi togliendo qua le monete RV l'unica cosa che ci rimane da fare è scappare e prendere più monete per correre il più velocemente possibile ma ah è già il secondo oh oh quella quella con calma quella con calma raga con calma ho detto ho detto con calma raga ho detto con calma oh però ah però ah però alla faccia della con calma aiuto dai no non ho preso niente in pratica pensavo che fosse un fungo non vedevo l'ora di usarlo e invece mi ha rovinato tutte quante le idee eh vabbè eh vabbè questo è un fungo però secondo eh devo dire appare per qualcosa così vado in mezzo in mezzo vado in mezzo in mezzo vado in mezzo in mezzo fate schifo tutti quanti però io ho la tattica segreta che sarebbe questa e il terzo giro quindi si goda non poco si goda non poco eh no perché l'ho tirato precisamente a chi è che l'ho tirato precisamente vabbè ma niente terapiamo 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 questa è buona rega questa è buona so che è buona perché è buona maia perfezione posso dire che è perfezione posso dire che è perfezione rega c'è solo il guscio blu adesso potrebbe fermarmi ma non lo vedo arrivare al momento quindi forse forse potrebbe andare abbastanza bene si gira si curva bene si curva si fa l'altra curva siamo quasi alla fine rega solo un guscio blu potrebbe stopparmi detto questo bellissima questa corsa peccato davvero un gran peccato eh vabbè per il nono costo davvero un gran peccato allora rega vi devo dire pensavo che ci fossero altri momenti salienti perché li ho già guardati però non mi hanno stupito davvero rega non mi hanno stupito c'erano dei bei momenti che avrei volto vedere colore primordi e invece invece forse in bagno questa è nuova non è mai no infatti è nuova perfetto trofeo piuma finiamolo in questa maniera sono le 10 e 10 no ma per niente è proprio sono le 20 e mezza passate ma passate proprio uh buona questa è però è buona eh questa è una nuova maffa ed è molto molto bella eh vabbè ma si vede già eh vabbè ma si vede già che cosa sto facendo ok ho perso un bel po' di tempo oh bello bello bellissimo bella questa animazione ci stava davvero tanto ci stava e non poco ok bella 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 l'ho preso tutti tu buah li ho presi tutti aiuto 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 bellissimo bellissimo posso dire che sono andato bellissima bellissimissima dai ragazzi dai ragazzi stanno andando perfettamente tutto quanto molto bene forse avrei potuto derappare qua eh eh sono secondo da quando da quando sono secondo mi sa che c'era un tranello mi sa che c'era il cosiddetto inganno del teatro eh mi sa che si stava inganno del teatro seguiamolo abbastanza bene perché la cpu inganna sempre mi devo dire già inganna ma che cosa ok pensavo fosse successo qualcosa di grave invece no o meno male raga e quindi in pratica ragazzi niente ho scoperto che era mio fratello e quindi niente di cosa raga non vi preoccupate è tutto quanto calcolato è purtroppo avendo gli appalti sicurizzati è così eh raga che ci possiamo fare ah c'era qua non ho preso il turbo no vabbè raga cioè potevano prendere un botto di turbo non ho preso il turbo no vabbè vabbè questi sono altri questo video poi sarà finistrino di tagli perché ovviamente ci mancherebbe c'è un video senza tagli e non è un video e mi sembra ascoltare te giusto cioè io voglio risparmiare il tempo mio fratello invece no non vuole farmelo fare e quindi che ci possiamo fare che noi cioè quanti tagli avrò fatto qui da questo momento saranno la quindicina di tagli che avrò fatto a causa di mio fratello soprattutto cioè mamma mia raga mamma mia davvero e vabbè così alla fin fine dovremmo aspettare di vivere da soli per fare qualcosa ma poi mancherà poi il fratello che voi tanto diavate quindi non vale la pena pensare a queste cose non vale davvero proprio la pena si può tagliare? non si può tagliare stiamo scherzando con calma con calma con calma ok il primo posto è mio sarà anche Bowser e l'ultima pista l'abbiamo fatta anche quest'oggi siamo arrivati al primo posto con tutte quante le interferenze anche al primo posto ragazzi momenti salienti me li vedo abbastanza volentieri ok forse forse ce l'abbiamo una bella miniatura per l'episodio purtroppo è bisogno corto purtroppo è così Mario Kart è in 150 cc sì ma se fosse stato in 100 cc davvero ci sarebbe stato un video di mezz'ora e era troppo lungo da editare anche perché devo uscire domani questo e dopo domani l'altro e non ho davvero per niente di tempo di fare qualsiasi cosa in più devo anche editare altri video di Sunshine della Skyblock di Minecraft Vanilla devo fare un sacco di cose detto questo ragazzi spero che avete apprezzato spero che vi vedi in un prossimo episodio like e iscrizione e campanella e supportate anche commentando condividendo questo video a tutti quanti i vostri amici e noi ci vediamo nel prossimo episodio ovvero domani sempre col trofeo quello successivo in pratica al trofeo più ma non ho letto neanche quale è nuovo detto questo ciao